La prima campanella dell'anno scolastico 2020-2021 suonerà per gli studenti marchigiani il prossimo 14 settembre. In vista dell'importante appuntamento, continua senza sosta l'organizzazione del comparto scuola e dei servizi a questo annessi. Uno dei nodi più importanti da sciogliere riguardava il trasporto e lo spostamento degli studenti, per il quale è stata trovata ieri una soluzione grazie all'accordo stipulato tra Stato e Regioni. E' stato annunciato infatti un aumento delle capacità di carico per i mezzi scolastici fino all'80%. Una decisione accolta più che positivamente dalle scuole, che permette di pensare in maniera differente anche la didattica a distanza, riducendo quindi l'ipotetico numero di studenti destinati agli insegnamenti online. E proprio online, a partire da questa mattina, diversi istituti della nostra provincia hanno attivato le classi di recupero. Un banco di prova importante, sia per gli studenti che per le scuole stesse, come ci spiega la vicepreside dell'Istituto Agrario Cecchi, nel quale invece i corsi sono cominciati in presenza. Abbiamo deciso di ripartire subito in presenza, prima per dare un segnale che la scuola ovviamente ha lavorato tutta l'estate per mettere in sicurezza le proprie aule, i propri spazi. Avete potuto vedere che abbiamo ovviamente quest'estate preso le misure di tutte le aule, distanziato tutti i banchi secondo la normativa del protocollo del Comitato Tecnico Scientifico. ha messo un'adeguata segnaletica per i ragazzi in entrata e in uscita. Ovviamente la dirigente scolastica, Donatella Giuliani, ha emanato un protocollo di rientro in sicurezza, dando ovviamente indicazioni precise sia agli alunni che ai docenti che ai genitori. Questa mattina una cinquantina di studenti sono qui per i primi corsi, altrettanti si susseguiranno questa settimana e la prossima. Quindi abbiamo fino al 14, abbiamo i corsi in presenza in varie discipline. I ragazzi stamattina arrivando hanno trovato la nostra infermiera che ha preso la temperatura col termoscanner, hanno rilasciato un'autodichiarazione, un'autocertificazione che ovviamente non hanno avuto contatti con persone a rischio, che la loro temperatura è al di sotto di 37,5 gradi. La scuola ha allestito l'infermeria ovviamente d'obbligo nell'istituto per eventuali casi che si dovessero verificare, per poterli isolare e prima ovviamente di chiamare i genitori. Quindi ci siamo preparati, abbiamo voluto fare con questa prova per dare comunque una sicurezza anche ai ragazzi, ai docenti, ai genitori per vedere che effettivamente è possibile qui effettuare una didattica in presenza. Siamo pronti per ripartire già dal 14 settembre con le prime attività scolastiche. Sicuramente saranno improntate con le attività all'aperto, con l'alternanza o i PCTO specialmente per le classi del triennio, avremo la vendemmia da portare avanti e quindi l'orto e quindi tutta una serie di attività da fare sicuramente in presenza qui. Siamo comunque pronti perché stiamo allestendo tutte le classi con wifi, rete, webcam per una didattica ovviamente integrata e quindi se ci dovesse venire richiesto perché motivi ovviamente di sicurezza pubblica, di distanziamento nei mezzi di trasporto ovviamente potremo fare o faremo delle turnazioni in presenza a scuola e in didattica a distanza a casa e però ecco la scuola è pronta, è pronta per tutto quanto, per quello che verrà richiesto. È stato un lavoro che è partito da fine luglio, non appena sono ultimati i remi di maturità e che ha richiesto tantissimo tempo, soprattutto per quello che riguarda appunto anche il dimensionamento delle varie aule, visto che non conoscevamo in maniera proprio analitica le superfici dei singoli ambienti e quindi da lì poi riuscire a collocare tutte le classi con una poca difficoltà iniziale per poter permettere anche poi una ripartenza in sicurezza. Questo poi, questo lavoro si è andato a, come dire, a grandire perché poi abbiamo dovuto considerare le superfici dei vari laboratori, della mensa, quindi è stata una ricognizione, diciamo, complessiva della scuola che ha permesso di avere un quadro molto esaustivo, tanto che come scuola, come le nostre classi rimarranno tutte nei nostri, diciamo, ambienti. Per rispettare il metodo di distanza è stato necessario eliminare qualche banco da qualche aula oppure è stato necessario richiedere qualche banco in più? I banchi per fortuna c'erano quasi tutti, quindi la nostra prese è stata, diciamo, anticipatrice quindi quasi tutte le classi hanno banchi a norma, quindi il famoso 50x70 quindi abbiamo rispettato sempre la famosa distanza un metro, diciamo, di distanza bucale e poi i due metri di docente, diciamo, all'uno considerando anche il primo parametro di cui si parlava a luglio dei due metri quadrati a testa per studente, quindi per occupante quindi abbiamo dato anche una, diciamo, anche un dimensionamento esatto e in alcune classi addirittura siamo riusciti a avere anche dimensioni maggiori e quindi per collocare tutti i nostri 1100 studenti del istituto.